Eccoci qui con un nuovo video dedicato a Barbie, ovviamente sapete Barbie il mio canale il 90% è incentrato su Barbie e poi su altri prodotti Vi faccio vedere le ultime Barbie che ho preso proprio questa settimana perché anche se non ci siamo visti in questo periodo di tempo Io comunque le Barbie le ho prese, ne ho prese moltissime però per motivi di tempo ecco non ve le posso mostrare tutte Come vedete io ce le ho in tutte nelle scatoloni classificate per anni quindi ogni volta che le vengo a depositare per me è un'impresa prenderle di nuovo Quindi vi faccio vedere le ultime che ho proprio trovato, allora è questa qui che ha il doppio abito poi come nuove proprio ho trovato queste qui basic che trovo molto carine E ne ho preso un'altra anche di questa perché praticamente ne donerò un vestito questo qua affiliato quindi sono queste tre Una me la tengo così perché è la prima volta che trovo questo abito mentre un'altra di questa le darò appunto questo vestito qui E entrambe tutte e tre le ho prese dai cinesi queste 7 euro cada una mentre questa qui l'ho pagata mi sembra 12 sì Bene adesso le faccio vedere la bella scatola comunque è sempre uguale anche per questa anche se è cambiata però sono sempre uguali Forse dovrei far vedere un attimo questa sì qui vabbè c'è il logo dei Barbie L'età Qua invece abbiamo un artwork di Barbie Life in the Dream House con il logo E qui invece ve lo faccio vedere meglio Una panoramica Di Barbie Life in the Dream House con varie scene del film Adesso le vado ad unboxare poi le vedremo una per una ci vediamo tra poco Allora eccoci qui sono riuscito a vestirle e partirei proprio dalla prima che ho trovato diciamo già pronta nello scatolo ed è lei Allora come potete vedere il viso è classico di Barbie Con appunto diciamo il trucco a ombretto, fard e mascara color rosa glicine Come la cosa diciamo si ripete anche per quanto concerne le labbra e il suo rossetto Indossa una collana a forma di fiocco color nero e poi ha questo fantastico abitino Che si presenta appunto con tantissimi cuoricini di varie colorazioni che vanno dal viola, rosso E poi c'è anche qui il logo di Barbie Ed ha dei tacchi color nero molto belli Con delle rifiniture sempre con dei cuori come potete notare È molto carina I capelli sono biondi sempre perché sapete che io adoro la bionda classica E mi piace un sacco quindi lei è la prima Diciamone scusate per i capelli però la devo sistemare perché questa qui ha avuto il cambio d'abito Praticamente è l'abitino, l'outfit che usciva in dotazione con la Barbie che vi ho mostrato E quindi diciamo che questa qui devo sistemare un attimo i capelli perché lo sapete non amo vedere le Barbie scarminate Quindi ecco qua Allora il viso, questa qui diciamo è proprio l'ultimo modello che hanno proposto quest'anno Quindi ha un trucco meno accentuato dell'altra Barbie Anche se ha del mascara sempre color rosa E anche per quanto riguarda le labbra Però ha la carnagione leggermente più scura Ha una magliettina con appunto il logo Barbie e un cuore ricamato Arriva anche con una borsetta nera con un fiocco Una gonna in jeans e delle scarpe di questo colore qui Molto carina E molto ben fatta anche lei Lei invece indossa il suo outfit originale Queste sono le Barbie, diciamo, cheap che hanno proposto e trovo molto carina Infatti il suo outfit è veramente fatto bene Ha questo vestito arancione con tantissime rifiniture dal logo di Barbie Arcobalemi, delle rose, il sole Insomma è molto carino nel complesso E poi ha queste scarpe color bianche Quindi devo dire la verità è le Barbie molto molto belle Ed eccole qui E ovviamente poi in questa confezione è uscita anche questa qui Bene, se questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale A mettere un like Noi ci vedremo presto E io ringrazio i nuovi iscritti E vi auguro una buona settimana Ciao a tutti